Ben tornati alle interviste di Favara Web, ci troviamo oggi all'interno del castello Chiamamonte di Favara perché proprio in questi minuti si è inaugurata una mostra fotografica dal titolo De Profundis Urbis proprio il titolo è latino per voler dire la profondità della città di Favara che ha realizzato questa mostra delle artiste polacche quindi siete qui a Favara, avete presentato la vostra mostra come nasce la scelta di scegliere proprio Favara? per questo tempo le ragazze hanno guardato la città, le strade hanno parlato con la gente e questo è il frutto dell'osservazione effettivamente non possiamo negare la bellezza di queste foto che appunto vanno a ritrarre gli aspetti a volte per noi un po' trascurati di Favara avete avuto un occhio artistico nel catturare le bellezze di Favara complimenti? i complimenti li capiscono a che dire vi invitiamo a visitare la mostra che è visitabile da oggi mercoledì 26 giugno fino alla fine della settimana con questo vi ringraziamo, io Valentina Piscopo di Favara Web e le nostre bellissime artiste che hanno dato il loro contributo per rendere migliore Favara grazie grazie